Da oggi l'intera Sicilia è zona gialla. Rispettiamo, rispettate le limitazioni e vaccinatevi. La vaccinazione è l'unica alternativa al dilagare di questa pandemia. Da oggi a Palermo è possibile prenotarsi e vaccinarsi in una delle 56 farmacie della provincia, prima città e prima provincia in Sicilia, dove si pratica questa ulteriore agevolazione perché ci si possa vaccinare. La salute nostra, dei nostri cari, la vita delle persone, non mi stancho, ma di ripetere, dipende dal rispetto delle prescrizioni, ma anche e soprattutto dalla vaccinazione.